L'ex fidanzato dell'ex concorrente del grande fratello Anita Olivieri, sarebbe stato beccato insieme ad un ex GFina. Di chi si tratta? Se nei giorni scorsi aveva fatto molto discutere la notizia della recente rottura tra i due ex protagonisti dell'ultima edizione del grande fratello Anita Olivieri e Alessio Falsone, nelle ultime ore, a finire al centro del gossip è stato il nome dell'ex fidanzato della Olivieri, alias Edoardo Sanson. Ricordiamo che il ragazzo aveva fatto una dolcissima sorpresa all'ex inquilina nel giorno di San Valentino, dove le aveva confessato che l'aspettava e che ci teneva a lei. Dopo solo qualche settimana, però, Anita si era lasciata andare alle emozioni con l'ex GFino Alessio Falsone, ammettendo di essere confusa e di non provare più gli stessi sentimenti per l'ex fidanzato. A distanza di tempo, nelle ultime ore, il suo nome è tornato alla ribalta per via di un'indiscrezione che lo vedrebbe insieme ad un ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Grande Fratello, ex di Anita Beccato con un ex GFina. A lanciare l'indiscrezione nelle ultime ore, sono stati gli esperti di gossip di Yanira Marzano e Amedeo Venza. Notizia poi confermata anche dall'esperto di gossip Alessandro Rosica. Quest'ultimo, tramite le stories sulla sua pagina Instagram investigatore social, ha fatto chiarezza sulla vicenda rivelando come starebbero realmente le cose e chi sarebbe l'ex GFina in questione. Si tratta di Nicole Murgia. Stando però alle parole di Rosica, l'attrice romana avrebbe, venduto, il gossip del flirt con l'ex fiamma di Anita Olivieri ai giornali con lo scopo di far parlare di sé e ottenere hype. Ecco quanto si legge. Come immaginavo. Edoardo Sanson, e Nicole Murgia. Lei non ha bisogno di presentazioni. Ha venduto questa finta relazione per gossip. Ha venduto tutto a giornalisti. Ma io ho già tirato tutto fuori. Mi meraviglio di Edoardo. Forse non era così lontano da ciò che criticava tanto. Per quanto riguarda Nicole non voglio più esprimermi. Già sapete cosa penso di lei e della sua vita. Donna fintissima alla continua ricerca di polli. Dispiace per Edo, ma con me ha chiuso.